Siamo per iniziare il Consiglio dei Ministri dove presenteremo questa bozza di decreto legge con le prime misure urgenti per sostenere le famiglie, i lavoratori, le imprese più colpiti dall'emergenza del coronavirus e dal suo impatto sull'economia. È un primo segnale concreto di sostegno al cui ne seguirà un altro. Stiamo lavorando per un secondo decreto con ulteriori misure la prossima settimana. Con questo innanzitutto completiamo la sospensione di tutti i tributi, gli adempimenti, le bollette per tutti i comuni, gli 11 comuni più colpiti dal virus, la cosiddetta zona rossa. Potenziamo gli strumenti di cassa integrazione e sostegno al reddito per i lavoratori sia dipendenti che autonomi degli 11 comuni e anche delle tre regioni più colpite. Diamo un primo sostegno al settore del turismo in tutto il Paese attraverso una sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali per tutte le imprese del settore. Agevoliamo l'accesso al fondo di garanzia per le piccole imprese per garantire più liquidità alle imprese in difficoltà. Stanziamo delle risorse per il sostegno all'export e introduciamo una serie di altre misure più dettagliate che poi vedrete nel testo finale e quindi con questo primo pacchetto che è stato realizzato abbastanza in tempi record siamo in grado di dare una prima risposta concreta. Siamo in parallelo al lavoro sul secondo decreto che conterrà degli stanziamenti per misure di sostegno ancora sia ai territori più colpiti ma anche ai settori produttivi che risentono delle conseguenze economiche di questa crisi che il Paese deve affrontare con determinazione, con unità, con serietà e anche con fiducia che il Paese può andare avanti e l'economia può e deve ripartire ed essere sostenuta. Quindi noi con questo diamo un senso di impegno del Governo sia ovviamente sull'azione di contenimento e sulle misure sanitarie necessarie ma anche di sostegno all'economia e di rilancio. Quindi un senso di fiducia e di impegno. Grazie. Rapidamente perché dobbiamo appunto riunirci. Molto rapidamente. Grazie. Iana Gagliardi, Scalegge24. Intanto la sospensione di quanto? Per quanto tempo? Volevo chiederle. E poi anche avrà visto che Salvini ha detto in realtà ci vorrebbe la sospensione delle cartelle per tutto il Paese. Pensate di farlo magari in un secondo tempo oppure no? No. La sospensione è fino al 30 aprile ed è naturalmente limitata per gli 11 comuni anche se appunto c'è un provvedimento importante per una filiera produttiva che è stata particolarmente colpita. È del tutto evidente che una sospensione integrale di tutti i pagamenti fiscali di tutta Italia non è una idea diciamo così saggia e utile. Quindi noi ci concentriamo sulle cose serie e che hanno un impatto proporzionato agli effetti economici del virus. Ma come ho detto questo è solo un primo provvedimento a cui ne seguirà un altro che stiamo preparando anche nel diagolo, nel confronto con tutte le categorie produttive, con le forze sociali e anche naturalmente con le istituzioni locali e in particolare delle regioni più toccate da questa emergenza. Buonasera Ministro, Marco Villeci, Fanpage. Non è in questo decreto però siccome in queste ore anche il sistema sanitario sta entrando in sofferenza ovviamente a seguito dell'emergenza, su questo il Governo come intenzione di intervenire con possibili nuove risorse per assunzione di personale? Insomma su questo cosa si può fare? Grazie. Il Governo naturalmente sostiene il sistema sanitario nazionale. Abbiamo fatto bene a non solo a non fare tagli ma aumentare le risorse per la sanità italiana nella legge di bilancio che ha ottenuto il più ampio finanziamento degli ultimi anni come sapete e naturalmente monitoriamo esattamente i bisogni anche in relazione all'evoluzione di questa vicenda e ovviamente questa è una priorità e quindi tutte le risorse necessarie a mettere in condizioni di agire al meglio il nostro sistema sanitario sono naturalmente garantite e assicurate. Grazie davvero. Avrete il risultato, l'esito finale tra poco.